Ciao ragazzi, oggi ho deciso di mostrarvi il mio primo video spesa mentre montavo il video mi sono resa conto che mancava appunto una intro spero che il mio video vi possa piacere, mi piace ogni tanto guardarli quindi è per questo che ho deciso di farne anche uno per il mio canale io vi saluto e ci rivediamo alla prossima mortadella di polvo siganino a fette e scamorza dolce a fettine sempre tritato di primo taglio e tritato sceltissimo salsiccia condita petto di pollo a fette e petto di pollo intero mascarpone granola, questo era quello in offerta ricotta salata 3 euro coppa del nonno più fake del mondo il baby bell il mio palcino formaggio pasta filata un pezzo intero poi questo pepato primo sale ci deve essere anche pecorico e un altro che poi troveremo i cucciolani che abbiamo scassato e un cornetto ah eccolo qua questo primo sale ai pomodori secchi non lo so com'è poi abbiamo preso i cornetti sorgelati ai 5 cereali e delle tre marie perciò questi non sono buoni mi arrabbio e all'albillocca ci ho messo pulissimo i selli orogel che ce l'abbiamo noi il grande fratello e nocciolini di mozzarella madonna altro giro altra costa poi abbiamo preso cornetti bauli integrali saladini tipo mini riz buoni succhi di frutta brick ace e succo di frutta gigante ace ok non è chiaro senza che senza che patatine paprika regger normali salati un altro ace pepsi max la mia preferita un'altra pepsi max ahah allora solo una rimpoglina allora questo lo vediamo zucchero di canna brio brio scineto marchio brio scineto marchio tortini anti-cocca e crema di nocciola un'altra 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 perché ho preso la panna invece ho preso la besciamella ok va bene molto bravo ammorbidente l'antifricio e questo tipo fette al latte plasma non lo so per avere così uno snack nel frigo parina zero zero parina zero zero e quella ai cereali cornetti al formaggio questi salatini al parmigiano che sono la fine del mondo sono una delle cose più buone del mondo pan carré e pane americano succo frutti rossi e frutti rossi famigiano anche in giallo poi questa focaccia tipo tipo un pocaccia queste due focacce e poi la pasta sedalini rigati sono rigati però l'abbiamo preso sedalini rigati pennette rigate questa pasta pure era 500 euro se non lo so questa tortiglioni passata santa rosa e passata l'ostica cile poi abbiamo preso un altro gusto di iceberg così nel frigo un altro patto di cornetti però questi non pari queste bruschelle per fare i crostoni salviettine per la borsa farina 00 questa mezzaluna che era caldissima quando l'abbiamo presa patatine patatine palline al formaggio nutella perché eravamo off nutella spaghettini o svego farina manitoba farina manitoba farina manitoba zucchero salsa cheddar non lo so come la proveremo tomato casalecce spaghettino spaghetti rotti tonica e limonata limonata spaghettino un altro ammorbidente che è l'offerta a me euro questo non fa tanto puzza cartigenica come comuni mortali pellicola altra cartigenica arachidi la morte proprio ecco la panna è uscita la panna arachidi ricoperte di qualcosa brioche di gelato barra granita uno yogurt con i cosini pomodori pelati due formaggio spalmabile shampoo liscio perfetto balsamo chiaranasti shampoo sansic o qualcosa shampoo e balsamo olio di argan e mandorle le ultime due buste allora poi ci abbiamo in voltini provo il prosciutto in voltini fila del fippistacchio uova questi sono buoni in voltini fila del fippistacchio però in questo modo col trigato non con la fettina vedere tipo cannoli poi bambinone caffè posso avere in offerta 3 euro quindi quindi per il mio bambinone di 36 anni panini pan di stelle l'ultimo pan di stelle ce l'ho per fare dell'artista gentilissimo lievito per fare la paezza queste marmelle daranno tutte a un euro albicocca fragole e un'altra ci deve essere ora la vediamo qua mirtilli sono andata un euro questo baratto non è buono finalmente abbiamo preso la crema pan di stelle che ancora non l'abbiamo provata poi galvanino un tubetto di maionese ci stiamo vedendo qua sotto un tubetto di maionese e intanto posiamo che posso poi patate una bella lattuga io una volta avevo la forma della lattuga adesso è un triangolo comunque una lattuga dei pomodori pomodori belli pelini pomodori belli pelini come dice papà san marzano san marzano tre malanzane e basta ci vediamo al prossimo video spesa ciao 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 Grazie.